Ciao a tutti, spero siate in forma. Non so voi, ma per molti lavare i panni in lavanderia diventa rapidamente un mal di testa. Hai solo una soluzione, investi in una lavatrice. Ma quale scegliere? Oggi ti guiderò attraverso le 7 migliori lavatrici disponibili su Amazon. Per prima cosa non dimenticare di iscriverti e attivare le notifiche del canale con la campanella. Così non ti perderai nulla nei prossimi video. Andiamo avanti! Questa lavatrice di marca Isense è prodotta in Europa e ha una capacità di 7 kg. Utilizza il vapore in modo che il bucato sia più morbido e meno stropicciato. Il vapore disinfetta anche il bucato e quindi elimina i cattivi odori. Questo elettrodomestico di classe energetica B ti semplificherà la vita. Con il suo motore di ultima generazione garantisce la massima potenza ed efficienza di lavaggio. Per le pelli sensibili e le persone con allergia esiste un programma speciale chiamato Allergy Care che utilizza una temperatura più elevata per garantire che i vari allergeni vengano distrutti. Per i bambini il programma Baby Care stabilizza i vestiti a 95 gradi. Per chi ha poco tempo il programma Auto Wash stesso calcola il ciclo e la durata del lavaggio in base alla quantità di bucato inserita nel cestello. Molto stabile e con un'ampia apertura è una lavatrice efficiente e pratica. Questo modello di lavatrice proposto da Bosch ha una capacità leggermente maggiore rispetto alla lavatrice precedente poiché accetta fino a 8 kg di bucato. Per chi ha fretta offre un programma di miscelazione rapida ed espresso in 15 minuti. Con la sua opzione Speed Perfect il bucato è pulito come al solito ma tre volte più veloce. Per chi ha le vertigini questa lavatrice ha una funzione che ti permette di aggiungere il bucato rimasto nel mezzo di un ciclo. Con la sua tecnologia Active Water questa lavatrice garantisce un ridotto consumo di acqua. Infine, con il suo motore a induzione economico e particolarmente silenzioso, la sua visualizzazione chiara e precisa del tempo di ciclo in tempo reale, la sua sicurezza per i bambini. Questa lavatrice del famoso marchio Whirlpool è molto efficiente poiché è di classe energetica A+++. È particolarmente adatto a chi ha poco spazio per metterla. Le sue dimensioni sono di 40x90x60 cm e sono infatti davvero ridotte. Si noti che per consentire ciò si apre verso l'alto e non frontalmente. Il suo programmatore Sesto Senso calcolerà da solo la quantità di bucato nella macchina e adatterà la durata del ciclo in funzione della funzione. Il suo programma Magic Forti laverà il tuo bucato in una sola ora. E infine, la sua opzione Fresh Care ordinerà l'agitazione intermittente alla fine del ciclo per preservare la freschezza del tuo bucato. Insomma, un'ottima lavatrice salva spazio. CO12105TE1S di Candy ha una grande capacità di 10 kg. Ideale per una famiglia numerosa con tanto bucato da lavare, questa lavatrice ha una finestra XXL per essere sempre più pratica. Con la sua classe energetica A++++ è anche economica ed efficiente. A pieno carico lava 10 kg di bucato in un record di 59 minuti con l'opzione veloce. Offre 9 diversi programmi per adattarsi a tutti i tipi di bucato. Il suo schermo 5D mostra il tempo rimanente. E in più, questa lavatrice si collega wifi e bluetooth per poterla controllare da qualsiasi stanza della casa. Questo modello di lavatrice commercializzato da LG ha una capienza molto grande di 10,5 kg. Oltre ai programmi classici come il programma lana o il programma rapido Turbo Wash, questa lavatrice ha il grande vantaggio di permetterti di lavare piumoni e cuscini piuttosto che andare in lavanderia. Molto silenzioso è molto pratico. Con il suo rilevatore antischiuma, il suo motore è discreto, la rotazione efficiente e la sua tecnologia a vapore per una maggiore igiene e visualizzazione del tempo rimanente soddisfa tutte le aspettative. E inoltre si collega al wifi per poterla controllare da remoto e risparmiare tempo. L'Electrolux EW6F3112RA ha anche una grande capacità di 10 kg. È una delle poche lavatrici a offrire un avvio ritardato. Classe energetica A++++ ha tutte le opzioni disponibili in generale, come la visualizzazione del tempo residuo, vari programmi, alcuni a mezzo di carico e opzione veloce. Offre inoltre un programma antiallergico che garantisce l'eliminazione di tutti gli allergeni eventualmente presenti nella biancheria e nel bucato. Con la sua certificazione Woolmark Blue ti garantisce di poter lavare i tuoi capi di lana normalmente destinati ad essere lavati a mano. Infine, il suo programma Drum Wash è particolarmente prezioso perché assicura che la tua macchina non sia mai intasata e quindi non macchia mai i tuoi vestiti con segni neri. Questa lavatrice Samsung è una delle lavatrici più avanzate poiché è lavasciuga. Con il suo lavaggio delicato ed efficiente dal punto di vista energetico, oltre al dosaggio automatico del detersivo e dell'ammorbidente, non può che conquistarti e rivoluzionare la tua quotidianità. Connessa al wifi e controllata da remoto è ultra pratica. Questa lavatrice tech è particolarmente consigliata se non hai spazio per avere una lavatrice e un'asciugatrice in casa. Farai entrambe le cose in un unico dispositivo. Qui hai tutte le informazioni per avere le migliori lavatrici del 2021. Metti mi piace al video se ti è piaciuto e clicca sulla campana per iscriverti al canale e attivare le notifiche. Ci incontriamo velocemente per nuove scoperte high tech. A presto!